Sono trascorsi cinque anni dagli attentati terroristici all'aeroporto di Zaventem e alla metro di Bruxelles, ma il ricordo dei 32 morti è una ferita ancora aperta. Il re Filippo, accompagnato dalla regina Matilde insieme al primo ministro belga Alexandre de Croix, hanno reso omaggio alle vittime in una breve cerimonia allo scalo internazionale. Un minuto di silenzio è stato osservato dopo la lettura dei nomi delle 16 persone rimaste uccise all'aeroporto, dove esplosa la prima bomba. Il sovrano ha poi depositato una corona di fiori davanti alla targa commemorativa in memoria delle persone rimaste uccise. Un momento di raccoglimento è stato osservato anche alla stazione della metropolitana, il secondo luogo dell'esplosione, dove morirono altre 16 persone. Gli attentati furono rivendicati dall'ISIS e furono compiuti quattro giorni dopo la grossa operazione antiterrorismo, in cui era stato arrestato Salah Abdeslam, il jihadista autore degli attentati terroristici di Parigi del gennaio 2015.